Os 2023 continua, altra grandissima novità presentata nel corso di questa manifestazione è quella proposta dalla Novastec, un'azienda di Conegliano Veneto che realizza una serie di applicazioni una di queste ci ha davvero letteralmente colpito, ne parliamo con Oscar Dare, il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda Ciao Oscar e benvenuto Ciao Fabio, grazie, grazie di avermi ospitato Allora parlaci subito di questo strumento che intanto è alle nostre spalle ma che ora mostreremo intanto a loro nelle immagini che abbiamo girato poc'anzi e tu ne spiegherai le principali funzioni Allora noi come Novastec abbiamo realizzato CapiClean che è il primo sistema per poter sostituire bicchieri di plastica negli uffici con un bicchiere, una tazza in ceramica con tutti i vantaggi della ceramica che può essere riutilizzata all'infinito e quindi sposare pienamente tutti i principi di sostenibilità e per un'esperienza nella pausa caffè esattamente come al bar, in una tazza di ceramica Con la nostra macchina riusciamo a lavare e sterilizzare una tazza in 20 secondi e pronta per essere anche usata come tazza preriscaldata con la macchina da caffè ed avere quindi un caffè esattamente come al bar Una volta riutilizzata può essere poi naturalmente rilavata e riposta nel cassetto che è appunto proprio nel mobiletto che integra la lavatazze la possiamo chiamare lavatazze e mette poi, fornisce anzi a tutti coloro che utilizzano in una piccola comunità in un piccolo ufficio, la stessa tazzina tutte le volte che si desidera Certo, con il nostro sistema riusciamo la stessa tazza ad usarla condividerla con tutti, esattamente come è una tazza al bar e viene quindi usata all'infinito e con il vantaggio che abbiamo eliminato il bicchiere di plastica o il bicchiere di carta senza creare quindi rifiuti nel coffee corner Ma anche e soprattutto nell'ambiente Oscar, io ho visto poco fa e l'abbiamo appunto mostrato anche attraverso le nostre riprese i coperchi per queste tazze cioè una volta lavata appunto nella lavatazze la tazzina viene inserita poi nel cassetto accanto con un tappo che può essere addirittura personalizzabile Sì, il tappo l'abbiamo pensato per proteggere la tazza all'interno del cassetto potrebbe anche essere personalizzato e quindi avere una tazza con il proprio nome indicato sopra però comunque in ogni caso quando si apre il cassetto è possibile per sicurezza rifare il ciclo di lavaggio, di sanificazione che consente quindi anche il riscaldamento della tazza e poi farsi servire il caffè Oscar, a chi vi rivolgete con esattezza? Noi ci rivolgiamo agli uffici, alle aziende, alle comunità e quindi laddove c'è il distributore automatico che prima usava il bicchiere di plastica e adesso invece proponiamo l'utilizzo sostenibile di una tazza in ceramica questo è il nostro target Ecco, diciamo che in teoria anche una compagnia di gestione di distributori automatici che ormai si sta facendo sempre di più al settore dell'oreca potrebbe essere interessato per integrare in alcune postazioni le dirigenziali le chiamo questa macchina con il servizio di micro ristorazione oreca o di caffetteria proprio in sostituzione della distribuzione automatica tradizionale Certo, ma ti dirò di più Fabio si potrebbe anche usare nel mondo del catering dove abbiamo la necessità di un sistema di lavaggio delle tazze assolutamente sicuro molto veloce, molto sicuro e senza dover spostare centinaia o forse migliaia di tazze per poi riportarle in azienda a fare il lavaggio Non ci scordiamo che migliaia di tazze sono migliaia di euro Esattamente Fabio E che con tutte le loro fragilità i piccoli problemi legati appunto alla difficoltà di trasporto e alla sicurezza potrebbero essere sostituiti da questo sistema e allora forniamo a tutti loro un indirizzo e-mail a cui poter scrivere senza alcun impegno per avere maggiori informazioni richiedere magari una chiamata una visita di un vostro responsabile commerciale e chissà iniziare un rapporto commerciale con voi Sì, potete contattarci tramite il nostro sito capiclean.it c'è un form con richiesta di informazioni Poi noi stiamo selezionando dei vendor per coprire la zona di tutta Italia e quindi ci auguriamo di poter presto coprire subito tutto il territorio italiano E quindi questa è anche una buona occasione per tutti coloro che desiderano proporsi in qualità di venditori per l'azienda Oscar D'Arè, CEO della Novastec Grazie Grazie a te Fabio dell'opportunità Grazie mille Grazie Grazie a tutti.